Allora, adesso vi vogliamo parlare di una ricerca che ha coinvolto 255 esperti in tutto il mondo, compresi alcuni scienziati italiani. Una ricerca che afferma che l'uomo ha cominciato a modificare ambiente e clima molto prima di quanto si pensassero sia a partire da 10.000 anni fa, molto prima della diffusione dell'agricoltura intensiva. Insomma, l'impatto delle azioni umane sul clima risale a tempi antichissimi, anche se, come evidenzia la ricerca a cui faceva riferimento prima Valentina, è innegabile che negli ultimi 150 anni l'impatto diventa molto più intenso e rapido. Ne parliamo con Alfonso Cauteruccio, presidente di Green Accord. Buongiorno. Buongiorno. Ho pronunciato male l'associazione, che si chiama invece? In inglese Green Accord, in italiano Green Accord. Benissimo. Domenico Gaudioso, climatologo, buongiorno. E Alessandra Bailo Modesti della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Buongiorno a tutti. Allora, Cauteruccio, partiamo da lei. L'ambiente, la tutela dell'ambiente, insomma, è un argomento sempre in primo piano, grazie anche a Greta Thunberg che ha riacceso i riflettori su questi argomenti. Dunque, sensibilizzare l'opinione pubblica, la politica su questi temi è sempre più importante. Quali sono adesso le sfide più urgenti da affrontare? Direi che quella del clima, dagli scienziati viene definita emergenza climatica. Da pochi mesi il Club di Roma ha adottato questo termine, emergenza climatica. E questo ha cambiato moltissimo il tema dei cambiamenti climatici. Proprio perché ci si rende conto che le cose stanno precipitando, si va a una velocità impressionante, le immagini di quest'estate... E voi state anche... avete organizzato degli appuntamenti anche internazionali, ce n'è uno a Cefalù, giusto? Sì, noi siamo un'associazione che fa formazione per i giornalisti sui temi ambientali da circa 18 anni. Ci occupiamo proprio del giornalismo che deve essere sensibile, attento e soprattutto preparato e pronto su questi temi perché sono molto complessi. Oggi sul Fatto Quotidiano leggo questa pagina. Salasso da clima impazzito ci costerà ben 230 miliardi. Gaudioso, che cosa sta accadendo? Che tipo di fase stiamo vivendo? In realtà siamo di fronte a un andamento dei fenomeni climatici che supera anche quello che gli stessi scienziati avevano pensato e avevano immaginato. Tutti i fenomeni, tutti gli impatti per esempio delle ondate di calore, dell'aumento del livello del mare stanno procedendo molto più velocemente di quello che si era pensato. Naturalmente tutti questi fenomeni hanno delle conseguenze per quanto ci riguarda. Hanno conseguenze ovviamente le ondate di calore, la secca dei fiumi da cui dipendono per esempio attività come la produzione di energia, ma anche l'agricoltura e così via, ma anche l'aumento del livello del mare che finisce per interessare sempre più spesso non solo le spiagge ma anche i centri urbani. Allora Alessandra Bailo Modesti, questa attenzione sul clima, la tutela dell'ambiente, come si può tradurre in sviluppo sostenibile ma anche in nuovi posti di lavoro? Pensiamo alla Green Economy ad esempio. Sì esatto, questa è una grande sfida a cui l'umanità si trova confrontata ma contemporaneamente anche una grande opportunità di avviare una transizione ecologica anche del sistema economico attraverso una Green Economy che è il motore per lo sviluppo sostenibile per realizzarlo concretamente. Ci sono sicuramente alcuni settori strategici in cui gli investimenti potrebbero avere una maggiore leva occupazionale. Tra questi in particolare la fondazione ha pubblicato uno studio ad aprile di quest'anno in cui analizza gli impatti occupazionali di cinque misure di Green Economy che sostanzialmente riguardano prima di tutto l'efficienza energetica delle scuole, degli edifici pubblici e degli edifici privati. In secondo luogo un maggiore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili anche perché tutto questo ha impatti anche sulla decarbonizzazione e quindi sulla limitazione per andare verso l'azzeramento delle emissioni di CO2. Un grande piano di sviluppo dell'economia circolare che è un nuovo modello di produzione di beni ma anche un nuovo modello di consumo è un nuovo modo di pensare anche al sistema economico e potrebbe avere degli effetti di leva anche in termini proprio di produzione economica notevolissimi. Infine un piano serio di rigenerazione urbana delle città perché come dicevamo prima anche fenomeni come l'isola di Calore alcune cose non sono solo scritte nei rapporti, sono cose che i cittadini sperimentano già oggi quotidianamente e quindi un grande piano di azione sulle città in un'ottica di rigenerazione per migliorare anche gli aspetti passivi della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico attraverso più infrastrutture verdi ad esempio il maggiore assorbimento quindi delle acque di pioggia, l'impermeabilizzazione e infine la mobilità sostenibile perché è una leva anche quella importantissima e potrebbe avere degli impatti. Complessivamente queste cinque misure potrebbero attivare in sei anni circa 800.000 posti di lavoro. Noi ringraziamo i nostri ospiti e vi diciamo anche che quando si parla di questi argomenti dovete stare particolarmente attenti perché è una roba che sta succedendo adesso. Esattamente, allora grazie, grazie per essere stati...